La situazione più ingarbugliata del previsto, anche se in realtà rispetto a un anno fa non è cambiato nulla ed il caos fino ad oggi era stato nascosto solo dai risultati positivi delle ultime stagioni. La lite interna alla società del Brindisi Calcio rischia di avere conseguenze gravissime. Entro il 20 luglio deve essere pronta la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La storia è sempre la stessa, da una parte il gruppo Campano che fa riferimento ad Umberto Vangone, titolare del 50% delle quote, dall'altro il gruppo Brindisino, titolare del 45% del club, composto da Francesco Bassi che rappresenta a sua volta il gruppo dell'ex Real Paradiso, la società dalla quale è nato questo Brindisi, e Antonio Giannelli. Infine c'è il 5% dell'associazione per Brindisi che, dopo aver annunciato le dimissioni, è tornata sui suoi passi. Giannelli adesso sembra essere disposto a cedere il 10% delle sue quote, detiene il 20% in tutto, ma non a Vangone per evitare che il gruppo Campano possa assumere così la maggioranza e dunque il controllo. Ed allora Bassi pare si sia messo a caccia di nuovi soci disposti a rilevare questa quota del 10%. Sembrava fatta con due imprenditori salentini, ma ancora una volta poi non se ne è saputo più nulla. Sarebbe auspicabile a questo punto un intervento del primo cittadino per mettere i vari soci attorno a un tavolo e magari carte alla mano, mostrare ai giornalisti i conti del club, i versamenti effettuati da ognuno di loro fino ad oggi e soprattutto chiedere chiarimenti sul futuro. Inoltre da qualche tempo non parla più neppure il presidente Vangone, l'unico che fino ad oggi aveva rilasciato interviste. Insomma adesso sembra calato il silenzio totale. Il paradosso è che il club è in salute e lamenta un debito ridicolo per la categoria. Ma ormai non è più solo una questione di soldi e sulle presunte pressioni per il controllo della società pare si sia accesa da tempo anche l'attenzione degli organi inquirenti.